allora guarda per la serie i grandi furti d'autore neanche i quadri rubati dai nazisti agli uffizi di firenze ho trovato delle cose pierlu incredibili il primo veramente quello e mi ha scioccato più di tutti ma perché io non lo sapevo è un grande successo di una cantante si ama gloria jones ti dice nulla gloria jones 1964 se pensa dove stava fatto sto pezzo io ero nato e avevo one years ero one years old ma attenzione perché questo brano che nessuno conosceva diventa il più grande successo in assoluto della band dei soft sell tened love 1981 ora non te lo vorrei far vedere perché siamo verso l'ora di pranzo però questo pezzo che poi è stato ripreso anche da mary lee manson che ha fatto diciamo la sua versione molto ok un'altra cosa bella che io veramente pierlu cioè che te lo dia a fare quando l'ho sentito brividi in tutte e due le versioni e allora nel 1985 prince mi fa questa questa canzone strepitosa che si chiama nothing compares to you sai prince era molto fanchettaro era molto james brown però era anche molto melodico cioè faceste questi lentoni e ste ballate bellissime cioè nothing compares to you e chi me lo ripiglia cinedo connor è diventato il suo cavallo di battaglia quindi nel 1990 cinedo connor mi rifà nothing compares to you di prince come se non bastasse arriva questa band si chiama edna 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 è un po difficile da dire però quello snap ma non solo gli snap e l'idea god the power 1995 mi tirano fuori un pezzo ripreso poi nel 97 dannata l'imbruglia la bellissima nata l'imbruglia il pezzo si chiama torno rimetteva a posto i 45 giri di un mio amico si piccoletti sono quelli piccini no e che ti risalta fuori un pezzo del 1962 ripreso e portato al successo ma già lo aveva avuto ma riportato al successo interplanetario dalla band dei beatles due anni dopo nel 64 la canzone con la quale ti lascio oggi arriva da questa band the isla brothers ripreso dai beatles 62 64 twist and shout music never lies